Ragazzi, di solito, cioè nel senso ho appena caricato il video quello Napoli e Juve Napoli post partita e stavo per iniziare a editare le live reaction di Roma-Lazio 3 a 1 e mi è arrivata una notifica di OneFootball io di solito non faccio i video sulle notifiche di OneFootball perché non li faccio, non lo so però li faccio su quelle cose che mi sembrano interessanti è arrivata una notifica in cui praticamente si comunica che il direttore generale, amministratore delegato, Beppe Marotta cioè l'amministratore delegato nomina il direttore generale, quindi qual è la necessità di nominare un direttore generale? non lo so, vabbè, comunque si, ha ricoperto tutti e due i ruoli Marotta si è dimesso dopo 8 anni alla Juve, praticamente è stato poi alla fine lui uno dei principali artefici della rinascita della Juve e del consolidamento di quella posizione di cui ho parlato nel video post partita di Juve Napoli di quella posizione economica forte e di potere che ha adesso la Juventus nel calcio italiano quindi ritenevo giusto darvi questo aggiornamento e iniziare un pochettino a riflettere con voi dei motivi che posso esserci dietro a lui qui, continuando del giro, questa settimana è stata premiata a livello personale come best executive praticamente un... proprio per i direttori, insomma per i direttori generali, un premio quest'anno quindi io suppongo che lui possa aver ricevuto... allora le cose sono due o hai ricevuto un'offerta migliore? hai ricevuto un'offerta migliore e in questo caso da chi? forse dal Manchester United? sentivo nel Manchester United c'era un po' di riassestamento da dover fare quindi in quel caso se tu lasci la Juventus dopo tutti questi successi e ti vai a buttare su un'esperienza come il Manchester United per esempio potrebbe essere un'idea allettante e giustificherebbe poi alla fine l'addio alla Juventus anche perché adesso avevi costruito un... diciamo ti stavi predisponendo per andare poi a effettivamente fare l'ultima cosa che ti mancare di fare che era vincere la Champions League che se non... diciamo la Juve potrebbe non vincerla quest'anno neanche l'anno prossimo però ti sei predisposto come una delle squadre favorite ma la Manchester United ci può stare oppure che ha litigato con Agnele in quel caso si avrebbe molto interessante ovviamente non parliamo di Roma quindi non usciranno probabilmente molti scandali o così o voci, vocine, non ci sono i giornalisti che stanno lì a raccogliere ogni minimo spiffero di qualsiasi persona voglia parlare però... però staremo a vedere adesso in settimana che esce fuori le vere motivazioni che ci sono dietro questo addio a quanto pare parateci che il direttore sportivo sta lì, non si è andato via quindi c'è semplicemente l'amministratore delegato che va via ragazzi ci possono essere alla fine i motivi più disparati anche i motivi personali però mi sembra veramente strano perché è un fulmine al cielo sereno soprattutto dopo una campagna acquisti che ti ha portato Cristiano Ronaldo non so, magari anche un senso di appagamento potrebbe aver portato Marotta a lasciare perché nel momento in cui tu sei l'amministratore delegato è vero che tu non fai il mercato però sei comunque un uomo che si interessa al mercato ricordiamo che il direttore generale sta sopra il direttore sportivo per darvi un'idea c'è l'amministratore delegato e il direttore generale che era sempre Marotta il direttore generale coordina i vari dipartimenti tra cui c'è anche il dipartimento sportivo quindi è evidente che le decisioni sportive le prende paradici ovviamente al di sotto ci sanno altri collaboratori li prende paradici e vanno condivise con Marotta quindi tu anche hai messo bocca nell'acquisto di Cristiano Ronaldo come ho detto in altri video l'acquisto di Cristiano Ronaldo ragazzi è principalmente secondo me stato studiato direttamente addirittura da Agnelli neanche da Marotta ma comunque dal direttore finanziario perché si tratta di un'operazione fatta veramente in toto tra tutto il management della Juventus però magari tu ti sei sentito come direttore generale insomma di dover poi a star prendere delle decisioni che alla fine sono decisioni abbastanza facili forse la valorizzazione delle due capacità come direttore potrebbero essere maggiori in una squadra che sta ancora cercando di raggiungere quel livello non lo so questi sono pensieri che mi sono venuti in mente volevo condividere questi pensieri con voi perché la notizia mi ha lasciato un po' un po' basito devo essere sincero perché allora non solo alla Roma si dimettono i direttori generali gli amministratori delegati anche la Juventus cosa molto molto strana staremo a vedere come andrà a finire ragazzi se vi vi è piaciuto un bel like se vi è piaciuto un dislike lasciate un commento e fatemi sapere voi che ne pensate mi appassionano queste cose di socialità non lo so perché ragazzi ciao a tutti e ciao a tutti quanti ciao a tutti